Un saluto dal Tg della Mobilità. In Prati sono cominciati i lavori per la riqualificazione del percorso pedonale di Via Ottaviano. Per lasciare spazio agli interventi sono deviate su itinerari alternativi sei linee di bus. Al via l'iniziativa promossa da Campidoglio e Atac a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne. Da domani sarà in vendita uno speciale bit antiviolenza in esclusiva presso la nuova biglietteria del Capolinea di Termini e successivamente da venerdì su tutta la rete di vendita. Attraverso lo slogan Portiamo la violenza al Capolinea il biglietto intende promuovere il numero unico 1522. Grazie a tutti.